Ho usato un altro pacchetto, vediamo cos'è. Scusate le mani, ma devo far così. Ah, torte della luna, anche qua. Adesso vediamo, assaggiamone una. Sono tutte uguali, pensano. Sì, sono tutte uguali. Vediamo queste se sono alternative a cosa. Qua c'è, addirittura, è uno straniero insieme a un cinese che l'hanno fatto dalla pubblicità. Vediamo. Vediamo. Apriamo quei denti, come sempre. Perché io non ho collaboratori. Vediamo il classico stampo della torta della luna. Così sembra una torta della luna alternativa. Vediamo di assaggiarla, vediamo com'è. Infatti, questa buona. Guardate. È un dolce questo, vero? All'interno ha questo caramello, che non è proprio adatto per me, però... non è per niente male, questa. Buona. Questa è particolarmente buona. Allora, le nuove torte della luna Fusion sono approvate. Bravo.